Ciao a tutti ragazzi, come qua con un nuovo video in quest'anno l'art è davvero molto semplice da realizzare e super elegante. Cominciamo subito applicando la base sospedente protettiva su tutte le unghie. Adesso per questo passaggio potete o fare a mano libera oppure creare tanti pezzettini di scotch o tanti uguali della stessa misura, per creare appunto una specie di cuore. Io faccio a mano libera e appunto prendo un penino della punta fine e uno smalto nero, mi traccio un puntino al centro e traccio due linee ai lati. Questa sarà una prima bozza, successivamente sistemerò molto di più la forma a cuore, anche se io ho sbagliato e non l'ho fatta molto accentuata, invece se fosse stata più accentuata sarebbe stata molto più bella. Deve essere proprio come delle ali di gabbiano e poi successivamente riempio la parte sotto di smalto nero. Anche se le linee superiori non sono troppo precise non vi preoccupate perché adesso andremo a ricoprirle con dei glitter argento. Quindi prendo appunto uno smalto glitterato argento e con il penino della punta fine tampono tanti glitter su appunto le linee. Non faccio una linea trascinata, altrimenti mi trascinerò appunto via anche i glitter. Invece in questo modo si crea una linea davvero molto piena di glitter. Faccio anche più passate per intensificarli. Successivamente applico il top coat e questo qui è il risultato finale. Come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E se ricredete questo durante le mie like mi farebbe piacere vederle sulla mia pagina Facebook, che trovate il link qui sotto nell'info box. Un grosso bacio e alla prossima, ciao! Un grosso bacio e alla prossima.